Il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Pesaro, in questi giorni che precedono una Pasqua segnata dalla grave situazione del territorio e della crisi epidemiologica nazionale, ha realizzato un'iniziativa di solidarietà per valorizzare l'attenzione che il corpo ha per le fasce più deboli a fronteggiare le difficoltà del periodo. Grazie alla collaborazione con la Caritas Diocesana di Pesaro, le donne e gli uomini delle fiamme gialle, sempre attenti alla funzione sociale dell'istituzione, hanno donato generi alimentari di prima necessità da distribuire agli assistiti. In data odierna il Comandante Provinciale Simon Luca Turriziani e del Direttore della Caritas diacono Permanente Emilio Pietrelli si sono incontrati presso la sede della Finanza di Pesaro. Dopo i tradizionali auguri pasquali è avvenuta la formale consegna delle vivande offerte dai militari a favore delle persone più bisognose ed assistite dall'Associazione di Volontariato. Le fiamme gialle nella settimana santa, oltre ai servizi istituzionali, comunicano che verranno intensificati i controlli nel fine settimana per rispettare le misure adottate dal Governo e per il contenimento dell'epidemia da Covid-19.